L'incanto dei luoghi, la suggestione della natura incontaminata, l'originalità dei sapori, fanno del massiccio del Sirino una delle montagne più imponenti della Basilicata, uno scrigno colmo di tesori incantati, gioielli che sono stati mostrati ai numerosi visitatori che hanno preso parte a Naturarte, il Festival della Natura che mette in rete i quattro principali parchi lucani che ha scelto il Montesilino come terza tappa della tre giorni dedicata alla scoperta di natura, storia e cultura del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. La proposta, io lo dico, lo sottolineo, va innanzitutto ai lucani di prendere coscienza del proprio capitale natura. Oggi si parla tanto di natura ma noi dobbiamo essere più preparati a gestire questo grande immenso bene naturale. La natura insieme a quello che i nostri borghi ancora hanno e che non abbiamo saputo mettere forse negli anni in evidenza a voler meglio farli godere. L'incantevole magia della natura del Montesilino è stata vissuta dai visitatori che si sono divisi tra il sentiero di trekking lungo sponde del lago Laudemio e il percorso in mountain bike lungo i sentieri più impervi della montagna. A concludere il tutto un dibattito sui temi della natura e della biodiversità ed un pranzo a base di prodotti tipici. C'è Matera adesso che questa postazione è molto forte. Noi abbiamo tre anni e tutti i sistemi dei parchi, il sistema di trekking regionale deve adeguarsi a questa velocità che non è una cosa semplice però se ci siamo in rete penso che possiamo fare delle ottime proposte anche turistiche all'internazione.